La città di Maratea si prepara ad affrontare una nuova ed ambiziosa sfida, quella di candidarsi come capitale italiana della cultura per il 2026. Il lancio di questo percorso partirà il 25 e il 26 marzo, con diversi incontri con le scuole, i cittadini, gli operatori turistici e le associazioni del territorio, per creare una progettualità condivisa e stilare il dossier che poi verrà presentato il prossimo settembre. Inizia così una lunga fase progettuale in cui il comune di Maratea coinvolgerà quante più persone possibile per dare vita a idee e iniziative che possano essere fondamentali affinché il progetto diventi realtà. Tanti tavoli acquisiranno cittadini ed istituzioni nella due giorni al fine di creare una progettualità condivisa. È una sfida ambiziosa per Maratea e per tutto il territorio, afferma l'assessore al turismo Valentina Trotta, che sottolinea che la città non è nuova a bandi nazionali, dove negli anni è riuscita ad ottenere numerosi fondi nell'ambito del PNRR. Dello stesso avviso Biagio Salerno, presidente di Federalberghi Maratea, è una grande opportunità, afferma, un riconoscimento e un onore per tutta la città che ha una grande storia alle spalle. Parola d'ordine di questa grande sfida dunque è la condivisione, solo insieme si potrà raggiungere l'ambito traguardo e far diventare Maratea, capitale italiana della cultura 2026.